Primi lavori. Osservo i disegni e i fumetti di mio padre e mi viene il desiderio di disegnare dei personaggi particolari e divertenti. Alcuni di questi personaggi li espongo anche durante la mia prima mostra a Pittsburgh insieme ad altri, molto diversi da quelli che poi mi renderanno famoso nel mondo. Vinco anche un concorso scolastico di disegno che mi permette di pagare le spese per l'iscrizione all'università. Mi piace inventare personaggi e animali buffi in stile cartoon. Sotto puoi vedere alcuni di quelli da me inventati.